Ti andrebbe di uscire a cena, solo io e te insieme? Sì, mi piacerebbe tanto. Sì, va bene. Perfetto. Non ti devi... Ah, no, questa mattina sono in teatro. Ah, sì. Will, ascoltami. Se noi organizzassimo dei rinforzi e andassimo l'ora, lo coglieremmo di sorpresa. Io non posso credere che starei al suo gioco. Sì, ma tu dici tutta la notte, ma che cosa vuol dire? In che senso? Beh, ecco, per esempio, quante volte avete... Cioè, tu quante volte sei... Allora, io sono venuto quattro volte e lei, sai, man, io dopo un po' ho smesso di contare perché... Cazzo, questa qui è assurda, cioè, sai, una dopo l'altra. Bellissimo, bellissimo. Proprio tutta la notte. Ditemi. Io... Me la dai? Un'altra birra. Un'altra? Un'altra birra. Un'altra birra. Un'altra birra. Guarda che io anticipo l'ora ridalla Galba. Da qui un'ora siamo in marcia. E in dove si va? Al confine. Io andrei qui a casa. Ma allora stavolta la siamo proprio male. Credila sì. Ti conviene mangiare qualcosa perché... Fino domani mattina resteremo a suci. Ma Rinaldo, dove ti dico i notizi da qua? Una letra da Anna. La dici che la fai la maturità. E ti? Niente, niente di niente. Pare che mi per l'Elisabetta sia un uomo morto. Ma io! Ma io! Ma io! Mi! Ma io! otro! Arcili du? Tu Pultra no! Who hai? Vi ha la videoe motентаivan? Gli, faci! Grazie per la visione!